Amici, pelli, shhh, è sempre notte perché lo sapete, i fusi orari, i martedì che si rincorrono l'uno con l'altro e non ce la facciamo più, è ovviamente così Eeeh, ieri, non so, però noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare delle previsioni assurde, cominciamo è un martedì pazzesco rumori incredibili rumori sei rimasta solo tu dov'è? dove si trova? non lo so ha detto che andava a comprare le sigarette e che subito tornava vabbè sono fatti i vostri non mi interessa amici allora ovviamente grazie per tutti i commenti sul video di Swalk è stata una cosa bellissima a proposito benvenuto Gaetano Totaro Totaro voi nuovi che siete venuti qua che non sapete che è sempre martedì ma li state lasciando i like li state vedendo i video precedenti perché poi uno arriva a svere solamente un video che è quello di Bruscolotti e quello di Paolo Del Genio e quello degli altri giornalisti non lo so il Paris Saint Germain il Paris Saint Germain passa supera il Bayern di Morgan ma avete visto che è partita? no perché poi parliamo dell'Italia parliamo del Napoli parliamo della Corsa Champions dove ci dobbiamo arrabbattare dobbiamo vedere apprezziamo certi certi risultati certi risultatisti però ragazzi quello il calcio il calcio bello il bel gioco il gioco del calcio è fatto anche di prendersi certi rischi di fare anche degli errori di non pensare per forza alla fase difensiva quando ci sono tutte queste occasioni da gol e finisce comunque 1-0 non è una partita perfetta no? perché si dice sempre la partita perfetta 0-0 ma quando ma era perfettissima io mi sono divertito da morire vedi qualcuno che ogni tanto va in affanno viene superato in dribbling dall'avversario benissimo ci mette una pezza il portiere interviene quell'altro oppure quell'altro si mangia il gol io vi parlo sempre di Neymar ha fatto una partita straordinaria è tutto a posto ma è dall'anno scorso che io dico che Neymar mi fa andare in freva perché si mangia certi gol e ieri a parte la sfortuna perché quello la traversa è stata una cosa bellissima spunti velocità dribbling 560 doppi passi colpi di tacco Di Maria è Mbappé quello che fa la differenza diciamo la verità ma Di Maria fortì tutto a posto ma è Mbappé quello che fa la differenza là e un paio di volte Deymar non gliel'ha data ma quello Mbappé stava da solo e la chiudevate e vi siete anche un po' specchiati però il Bayern che stava lì pronto per fare la siringhietta incredibilmente poteva agguantare quella cosa e col gol sarebbero passati è una cosa incredibile la famosa storia in cui tu in una partita sola la perdi la pareggi e la vinci perché se fate il calcolo è così loro hanno perso questa partita hanno pareggiato il conto totale ma hanno vinto perché sono andati avanti loro il Porto invece che non è il vino così fa quel gol in rovesciata simile al gol di Cristiano Ronaldo al gol e però passa Giorginio che secondo me ha fatto un'ottima partita non l'ho vista la partita ho visto solo gli highlights Giorginio era presente in tutte le occasioni dove Pulisic l'americano si è mangiato pure lui l'impossibile lo hanno picchiato insomma vabbè è un altro calcio ragazzi ma voi vi ricordate che io ho fatto la previsione no? perché secondo me se dobbiamo parlare dell'Italia vi ricordate Ambra Bat Ambra Bat ve lo ricordate a questo qua? eh questo qua fece una previsione e dobbiamo un attimo controllare perché sono passate un paio di partite e penso di aver sbagliato qualcosina vediamo un secondo diciamo che vince il Milan l'Atalanta udinese già un errore diciamo che vince il Milan no in realtà hanno pareggiato con la Sampadour sentiamo diciamo che vince l'Atalanta giusto Napoli-Crotone diciamo che vince il Napoli vedete non c'è scaravanzino non c'è scaravanzino tranquillamente Sassuolo-Roma un pareggio beccato mi piace mi piace l'idea di un pareggio Lazio-Spezia vince la Lazio Torino-Juventus per me vince la Juve per me vince la Juve inter-Bologna non ci interessa quindi già in questa giornata dove avevo promosticato tre punti al Milan se ne è preso uno tre punti alla Juve se ne è preso uno e poi ho beccato la Roma e avevo beccato la Lazio e anche il Napoli andiamo avanti andiamo avanti la partita la partita delle partite Juventus-Napoli non la consideriamo ce la guarderemo live ovviamente qui su questi canali e ci sarà da diventare virali perché chissà che cosa succederà arriva lo stretto Parma-Milan il Parma a sorpresa strappa un pareggio no quindi già si sono ribaltate ma ci sta perché il pareggio con la Sabuto fa il Paio con la vittoria questo qua quindi tutto a posto con il Milan non mi ricordo come mi chiamo però sì Roma-Bologna vince la Roma Fiorentina-Atalanta vince l'Atalanta è giusto e quindi due punti in più al Napoli ragazzi e poi dopo che dico vince il Milan Atalanta-Juventus bella partita vince l'Atalanta vince l'Atalanta e poi la Juventus vincerà probabilmente la Coppa Italia Bologna-Spezio non ci interessa la Lazio batte il Benevento Torino-Roma vince la Roma Napoli-Inter vince i Napoli si deve prendere la cosa e l'Inter magari già sarà tranquillamente scudettata no ma è proprio ipotesi pazzesca Milan-Sassuolo non possiamo andare più avanti ritorniamo nell'Ambrabat generale ragazzi allora perché ero così fiducioso non lo so perché ero così fiducioso perché avevo pronosticato uno stop con la Sampdoria che invece il Napoli si è ripreso subito però c'è un po' di equilibrio con gli altri risultati che avevo preso il Milan che stecca invece con la Sampdoria invece di steccare col Parma eccetera eccetera avevo dato due punti meno alla Juve che cosa pensate? allora vorrevo mettere questa cosa qua per rendere un pochino più chiaro anche quello che è la situazione mamma mia mamma mia mamma mia come sa da fare come si può fare come si può fare come si può fare signori noi dobbiamo tifare dobbiamo gufare perché il Napoli le vince tutte padrone del proprio destino perché sì perché poi l'Atalanta il Milan la Juve si toglieranno qualche punto non si può non si può pensare così dobbiamo gufare le altre perché è impossibile abbiamo questa coppia di partite Inter e Lazio che sono tremende e dobbiamo adesso pensare all'Atalanta perché perché la Juve una volta superata l'Atalanta avrà il Parma la Fiorentina l'Udinese il Milan saranno probabilmente già tranquilli l'Inter avrà già vinto lo Scudetto Sassuolo e Bolo Juventus Filotto la Juventus finisce seconda come avevo pronosticato il Milan già tanti punti ha quattro punti di vantaggio anzi cinque perché su di noi è in vantaggio quindi non possiamo arrivare pari merito col Milan non possiamo guardate guardate il Genoa face Sassuolo face la Lazio vediamo se ci credono ancora Benevento face con la Juventus vale il discorso di prima il Torino che probabilmente sarà salvo il Cagliari sarà retrocesso e l'Atalanta lì sarà divertente vedere se ci sono biscottini da fare oppure no io e l'Atalanta che noi dobbiamo puntare credeteci adesso perché l'unica cosa è l'Atalanta perché anche perché con l'Atalanta lo scontro diretto è a favore nostro quindi se arrivassimo pari punti con l'Atalanta ci puoi ragionare hanno Juventus e Roma interessante interessante l'Atalanta sta vincendo da parecchio statisticamente qualcuna la possono steccare la Roma una partita la può vincere contro una big uno scontro diretto lo può vincere poi c'è il Bologna Sassuolo Parma Benevento Genoa e poi il Milan qua si decide Juventus Roma Inter Lazio Atalanta e Napoli e lì dobbiamo fare questa cosa e poi dopo anche il nostro calendario va un pochino più a squagliarsi riusciamo a fare tre punti o quattro punti contro Inter e Lazio se dovessi scegliere ve lo dico tranquillamente lasciamo vincere l'Inter non c'è problema ma prendiamoci tre punti con la Lazio se dovessi scegliere se proprio dovessi trovarmi di fronte al Conquibus di che cosa farei tu firma il patto col diavolo preferisco tenermi la Lazio distruggere loro e tenerceli belli dietro così non c'è problema perché ragazzi noi dobbiamo arrivare anche quinti e non dobbiamo mollare niente perché non si può mai sapere qua tra penalizzazioni schiaffetti sulle mani poi non dobbiamo piangere su cose che non sono avvenute la polemica a Gasperini era una cosa che ha successo un mese fa più di un mese fa quanto fa e lui hanno pure smentito hanno detto non è vero ha semplicemente finito l'allenamento poi dopo lo hanno fatto non c'era niente eccetera eccetera quindi le polemiche si rincorrono questa qua dell'Atalanta poi ci sono i tamponi della Lazio poi c'è il caso su Arez della Juve gli stipendi dell'Inter ci sono una serie di cose appese e sospese che significa che se qualche giudice decide di svegliarsi e succede qualche cosa di pericoloso e stranissimo tu devi essere là devi essere là non che te ne scendi e dici vabbè non siamo arrivati i quarti non fa niente neanche qui no 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 tu devi fare più punti possibili perché non si può mai sapere attenzione attenzione non sarebbe la prima volta in Italia non so se i sistemi sono cambiati se hanno trovato altri sistemi penso sto facendo illazioni oggi che ne pensate ci state questa è la mia domanda ci state a perdere con l'Inter ma vincere con la Lazio o siete convinti che questo Napoli con il ritorno di alcuni titolari e con insomma un attacco spumeggiante perché osimè 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 magari siamo pure più sfrontati eccetera l'Inter è una squadra solida una squadra solida è una tripla da New York Valerio Fluido è tutto devo andare assolutamente a dormire non ce li abbiamo né Neymar né Mbappé né quelle cose così non abbiamo nemmeno Marchinhos non abbiamo Florenzi Geekin Navas eccetera eccetera però abbiamo Usai quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci si deve cliccare sopra la cosa così poi cliccate sulla campanella poi vi iscrivete al canale Telegram e di più dai basta sei cringe quante cose tutte le cose bellissime mi ricordo come mi chiamo